Nella pallavolo continua la campagna di rafforzamento della Megabox Vallefoglia che mette a disposizione di Coach Pistola un secondo libero. Si tratta di Claudia Provaroni, 25 anni, romana, nelle ultime due stagioni a Perugia che è stata presentata oggi nel quartier generale della Banca di Pesaro. Claudia Provaroni che si detta entusiasta di venire a Pesaro dove ha trovato le condizioni giuste per cambiare ruolo, da schiacciatrice a libero. Sono una persona che se fa una cosa la deve fare al 100%. E nonostante da banda ci provassi mi sono resa conto che comunque non riuscivo ma non perché non mettevo abbastanza di cuore o di carattere. Però le caratteristiche fisiche contano. La pallavolo di ora non è come era prima. È quasi più una maschile fisicamente, siamo cresciute tanto. E quindi sono due o tre anni, mi sembra, che chiedo di poter fare il libero perché volevo esprimere al massimo quello che sono i miei punti di forza. Sta iniziando la nuova stagione che è la numero tre. Iniziamo fra breve, la voglia di fare bene c'è, anche perché non è che si può lasciare le cose al caso. Perché in serie A bisogna fare le cose per bene, programmate e quindi se hai qualche ambizione questo è il percorso e non puoi fare diversamente. Angeli si è detto orgoglioso e grato della partnership rinnovata con Banca di Pesaro, banca del territorio che per il terzo anno è a fianco della società Biancoverde. È un rinnovo di una sponsorizzazione che già facciamo da diversi anni, questo è il terzo anno consecutivo, ma noi siamo sulla Castellonda perché siamo una banca competitiva, siamo una banca sana, una banca di Pesaro che su questo territorio gioca la sua partita, è una partita che deve essere sempre più vincente. E quindi abbiniamo il nostro marchio a una squadra giovane con delle ambizioni, ambizioni che la stessa banca di Pesaro ha, di crescere, di crescere nel proprio territorio, di giocare insieme ai propri dipendenti una partita che deve portare dei risultati. Il volley io ritengo che sia uno sport veramente sano e comincia ad avere un bel seguito, sicuramente grazie anche ai risultati sportivi che stanno conseguendo, Olimpiadi, Europei e quant'altro, però è molto molto importante. Poi per questo territorio ha un doppio significato secondo me per la nostra banca, uno perché la squadra è anche espressione del territorio di Vallefoglia. Vallefoglia è una realtà importante anche a livello industriale e Ivano Angeli ne è la testimonianza, un imprenditore oltre che intelligente e lungimirante perché sta facendo degli investimenti importanti, che sta portando le sue aziende a livello importante e come banca necessariamente queste aziende devono essere guardate, seguite e anche un po' imitate, comunque bene così direi.